Avete le borse sotto gli occhi ma avete paura della cicatrice, avete paura del cambio della forma dell'occhio? Bene, con la blefaroplastica transcongiuntivale le borse sotto gli occhi si possono rimuovere senza nessuna cicatrice esterna e senza modificare la forma dell'occhio. Se volete ulteriori informazioni guardate sul sito www.geneichirurgia.it e ci sentiremo alla prossima.